Impassano le polemiche dopo la sconfitta di Modena. Purtroppo il patron Sirci sembrerebbe essere caduto dalle provocazioni. Nelle provocazioni ha risposto senza peli sulla lingua. Ancora Moreno Castellani. Sì, Raybox, visto che questo è il fine settimana della Final Four di Coppa Italia, dalla quale i perugini sono stati esclusi. E si sa che quando non si gioca si parla, forse troppo. Tengono banco le polemiche riguardanti la partita di Modena, dove la Sirra è stata battuta al tie-break e ferocemente sbeffeggiata, lei ma soprattutto il presidente Sirci, da una frangia molto consistente della tifoseria emiliana. Se fosse vinto, probabilmente le offese sarebbero rimbalzate direttamente addosso a chi le aveva espresse. Così invece, perdendo nel solito modo contro la solita bestia nera, o meglio gialla, sono clamorosamente esplose scuotendo tutto il mondo della pallavolo. Certo è assodato che a Modena i tifosi non brillano per atteggiamento distaccato e probabilmente fra striccione i cori hanno davvero esagerato con atteggiamenti più vicini a quelli del calcio che non a quelli del volley. Ma la risposta di Sirci è stata davvero stizzita e ha dato purtroppo la sensazione di sparare un po' nel mucchio, sollevando un vero Vespaio. Speriamo che si torni presto a giocare e a vincere. È il modo migliore per rispondere a chi non ti vuole bene.